musica allora salve a tutti ragazzi ed eccoci nel nuovo video di The Gamer oggi voglio iniziare una nuova serie che è quello di Dragon Ball Z Volkai Tenkaichi 3 ora è cominciata la sigla di nuovo e togliamola tutta andiamo subito a fare la storia allora ragazzi cominciamo e dovremo a quanto pare affrontare il suo tetto maggiore di go Radish che non so quando Bardak l'abbia fatto allora improvvisamente compagni Saiyan Radish luogo e piccolo si uniscono temporaneamente per affrontare questo amico fortissimo è iniziata la battaglia di governo Zeta dai bravissimo bravissimo così così quindi tu vieni in realtà come sorprendente sai perché sono qui mi 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 sono qui allora cominciamo e assolutiamo Radish che a quanto pare è veramente forte allora scriviamo le lezione vorrei tanto leggere però non riesco proprio a leggere dai possibile andiamo avanti con la storia ecco qua adesso per un piccolo a quanto pare se ci da tregua possiamo fare una mosca dai onda di un'idea esplosiva niente da fare dai gira 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 ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta scoppisci maledizione non ci riesco è davvero fortissimo abbiamo fatto il terrasporto niente da fare non senti nessun danno mettiamo un po' di energia ci blocca dai dai che ce la fai piccolo dai che ce la fai non abbiamo tolto praticamente niente manco allora andiamo avanti con la storia ora andiamo avanti con la storia adesso utilizziamo GoFu che a quanto pare l'energia è avanzata in un uomo se la diffiassi nella nostra tazza non guardate a morire e come ti permetti vieni qua vieni qua niente ci attacca dai dai mettiamolo ci attacco di cagli penna ma come non ci posso credere nooo vado rimasso al casaccio eh facciamolo fattene no no io me ne vengo qui invece mamma mia meno male ce l'abbiamo evitata bro anzi mettiamo Ota che sta per Ota io però vediamo così perchè appunto è ancora aiutato continuiamo attacca Non l'hanno ascoltato? Quanto pare questo di terrami dietro? Dai dai dai, questa è difficile, questa è difficile, questa è difficile, questa è difficile, mamma mia, non l'ho indovinata neanche una! Dai, cambia neanche, perfetto, mamma mia de l'energia che sta a prendere la nuova volta! Cioè, finalmente siamo riusciti a fare una vostra incontruttura Niente da fare, ce la hanci le padre! Nooooooo! Nono, nono, nono! Niente da fare! Questa è la prevedibile, maldizione dai 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 andiamo avanti, è possibile? riusciamo già? sembrava strano vicino a me, adesso si finitiamo piccolo, facciamo questa mossa, si avviciniamo al radice che non sente il mio dolore, no, ecco il regalo, non mi vuole il regalo, non c'è il radice, continuiamo che chiamato di Belli? Buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.